Il pesante rincaro del gasolio ha fatto spegnere i motori dei pescherecci nazionali per una settimana. Una decisione presa in un'assemblea civita nuova alla quale hanno aderito anche le marche e di conseguenza tutte le barche adibite alla pesca per sette giorni rimarranno ferme al loro porto. Scelta forzata da parte degli armatori che si sono ritrovati con le spalle al muro dopo che il costo del gasolio è salito da 39 centesimi nel 2020 a circa 1 euro a marzo 2022. In attesa di un sostegno da parte del governo sono 750 le imbarcazioni della regione Marche che hanno deciso di non salpare lasciando a casa 1.400 dipendenti che di conseguenza andranno sotto cassa integrazione. I pescherecci oggi come oggi si troverebbero a spendere 3.000 euro al giorno per svolgere il loro lavoro spendendo di più rispetto a quello che guadagnerebbero in 24 ore. Il lavoro dei pescatori che si inoltrano in alto mare richiede da sempre tanto sacrificio con la partenza fissata alla mezzanotte della domenica e il ritorno alla mezzanotte del giovedì e visto l'aumento dei prezzi per poter alimentare le loro barche hanno deciso di fermarsi. Il settore nelle Marche con 5 mercati ittici principali è di grande importanza. Sono 21.000 le tonnellate di pesce raccolto pari all'11% della produzione nazionale con 100 milioni di euro di fatturato annuo. Nella giornata di mercoledì le associazioni di categoria si riuniranno a Roma per un incontro al Ministero dove l'intenzione da parte degli addetti ai lavori è quello di far rientrare la categoria della pesca tra quelle che verranno inserite nel prossimo decreto. Un sostegno fondamentale per poter far ripartire i pescherecci altrimenti, come da loro affermato, le barche rimarranno ormeggiate alle bitte. Una situazione dovuta chiaramente allo scontro militare che sta avvenendo in Ucraina con la conseguente impennata dei costi per il rifornimento di carburante. Il rischio al quale si va incontro è che gli italiani d'ora in avanti dovranno abituarsi per un tempo non definito ad accogliere sulle proprie tavole del pesce non più nostrano ma importato dall'estero.